Eccoci di fronte al iSeeker Sport, negozio di biciclette specializzato sulle ruote, le biciclette invernali. Non siamo venuti qua per comprare ruote invernali ma per cambiare la ruota di Fausto che purtroppo era arrivata agli ultimi termini. Un piccolo dispiacere perché mi ha accompagnato dall'inizio e adesso proprio nel momento finale ho dovuto cambiarla. Certo è un pezzo di alluminio ma un po' ci si affeziona. Un po' ci si affeziona però non possiamo lasciare nulla al caso. Manca relativamente poco. Ma manca poco? Meglio essere sicuri di arrivare. Barretta Fracala. Alciolo!